Diversificare l'economia ionica allontanandosi dalla monocultura dell'acciaio si può. Parola del Ministro dei Trasporti Paola De Micheli approdata, è il caso di dire, nel porto di Taranto per il completamento dei lavori di ampliamento del quarto sporgente, funzionale ad implementare la ricettività della infrastruttura tarantina. Molteplici le opportunità per il porto ionico che deve guardare al suo futuro come realtà attrattiva e poliedrica. Diversificare l'attività di questo porto significa darsi comunque una prospettiva di futuro che troppo spesso nella discussione nazionale viene dimenticata. Qui in particolar modo c'è già un aspetto strategico determinante che è l'intermodalità che c'è esattamente alle nostre spalle sulla quale noi stiamo già facendo un investimento di oltre 25 milioni di euro come RFI per potenziarla questa intermodalità ma quando saranno terminati tutti gli adeguamenti tecnologici delle linee, soprattutto sulle coste del nostro paese noi ci ritroveremo ad avere Taranto capace di raggiungere il centro d'Europa molto prima che le merci che passano da Rotterdam. Ed è stata anche l'occasione per fare il punto su quanto fatto e le prospettive che si stanno concretizzando con il porto e l'impiego dei lavoratori ex TCT. Oggi salvaguardati nella costituita agenzia inserita, lo ricordiamo, nel decreto mille proroghe con un consistente intervento per garantire i lavoratori. Giuridicamente sistemiamo i testi per poter poi arrivare al finanziamento e alla proroga per 20 milioni e 800 mila euro circa anche perché abbiamo la necessità di tenere queste lavoratrici, questi lavoratori sul pezzo visto e considerato che soprattutto questo porto dovrebbe dare loro nei prossimi mesi e nei prossimi anni una nuova opportunità occupazionale. È cominciata già la diversificazione dell'area industriale di Taranto e dell'area economica di Taranto che smette di essere concentrata sulla monocultura dell'acciaio, comunque vada la trattativa con Mittal e comincia una nuova economia. Entro fine aprile avremo tutta l'infrastruttura pronta ma questa la metteremo in esercizio già nei prossimi giorni.